La fisiochinesi terapia è il trattamento fisioterapico volto alla riabilitazione motoria di un paziente mediante l'intervento manuale o l'esercizio terapeutico. Vi sono due specifiche tipologie di trattamento, attivo e passivo. Il trattamento passivo, generalmente utilizzato nella prima fase, prevede che il terapista eserciti delle particolari tecniche sul paziente in maniera da gestire efficacemente il movimento della parte del corpo interessata. La seconda parte prevede che il soggetto partecipi attivamente eseguendo precisi movimenti su indicazione del terapista. L'ambito di intervento attraverso la fisiochinesi è quello ortopedico, neurologico, reumatologico, cardiovascolare e respiratorio. L'obiettivo è quello di recuperare il ROM articolare, quindi l'articolarità, e recuperare lo schema motorio e la forza dei muscoli.